ecco siamo nella parte bassa degli essi qui si vede in lontananza la ciminiera poi notiamo di fronte tutto il centro storico che comincia proprio qui di fronte qua vediamo i campi da tennis del circolo cittadino qui abbiamo un'area giochi poi lì di fronte abbiamo l'ascensore che poi porta verso il centro ecco ora siamo qui proprio sopra l'ascensore di cui abbiamo visto la partenza da sotto ecco questa è la parte sottostante di Iesif vediamo l'ampio parcheggio gratis poi ora proseguiamo andiamo verso la parte centrale di Iesif questo è l'ascensore e qui siamo nelle mura di Iesif è l'ascensore e siamo quasi arrivati al corso principale di Iesif e non mi si tratta di la parte sottostante di Iesif vediamo che non mi ha fatto